Allora mentre nella stanza di fianco si scatena il terzo tempo della Corradini, infatti abbiamo chiuso la porta altrimenti nulla si sarebbe sentito, alle spalle di Stefano Baldini e di me c'è la piazza del popolo dove tra meno di un mese succede qualcosa. In brevissimo Stefano cosa succede? Per cui si concentrano un po' tutte le attività sociali di Rubiera e noi abbiamo inserito la nostra che serve per ricordare dieci anni che sono passati dalle Olimpiadi di Atene 2004 e quindi il 29 agosto, lo stesso giorno nel quale io ho vinto la medaglia d'oro ad Atene, facciamo un happening, chiamiamolo così, un allenamento con un ritrovo alle 17, alle 18.30 si corre su un giro che storicamente io ho utilizzato per allenarmi quindi si possono fare o 5 km o due giri, 10 km in modo da arrivare per quello che mi riguarda alle 19.10 che è l'orario preciso di quando ho tagliato il traguardo dello stadio Panatinaico il 29 agosto 2004. Ad Atene e questa che è un'intervista in realtà è un invito perché l'intenzione di Stefano è proprio quella di dire tutti quelli che hanno la passione per la corsa, che è il vero motivo che l'ha portato fin lassù, possono venire qui. Quindi 19.10 del 2004 tu tagliavi, se ce la facciamo, il traguardo con qualcosa che è anche in questa maglietta. Con il pettorale 2157 che ho voluto stampato su tutte le magliette che daremo a chi si iscriverà alla nostra manifestazione e quindi non essendo una gara non c'è un vero e proprio pettorale, il pettorale lo abbiamo stampato proprio come si deve. Oltre a questo ci sarà poi un pasta party alla fine dell'allenamento, la proiezione di un cortometraggio celebrativo dei giochi di Atene, la presentazione di un libro che viene ristampato per l'occasione, che avevo scritto nel 2005, con le ali ai piedi, questo si chiamerà sempre con le ali ai piedi perché sarà una versione aggiornata, con dei capitoli nuovi, con anche delle fotografie storiche molto belle e ci sarà Linus che mi ha fatto la prefazione e che presenterà insieme a me il libro e poi un concerto, insomma direi un pomeriggio serata nel quale cercheremo di coinvolgere almeno 1800 persone che sono quelle che abbiamo voluto come numero chiuso e poi anche spero tanta gente che verrà a vedere, ad applaudire chi camminerà o correrà lungo il percorso. Ci si può già iscrivere, no? Ci si può già iscrivere attraverso la piattaforma di RAN 530 e noi abbiamo così utilizzato, sfruttato questa amicizia e collaborazione e poi ci si potrà iscrivere anche in piazza prima della manifestazione ma consiglio vivamente di farlo prima perché vedo che c'è grande movimento, tanto interesse, tanti vogliono venire e questo mi rende decisamente felice. Ho voluto organizzare questa cosa perché un po' mi piaceva, un po' sono stato spinto anche da tanti amici che mi dicevano ma non facciamo niente il 29 agosto 2014 visto che sono dieci anni, visto che insomma un po' di tempo qui in agosto lo avevo e poi grazie a un meccanismo oliato organizzativo come quello della Corradini Excesso Rubiera e siamo riusciti fino adesso a fare qualcosa di molto molto bello. Prima i colleghi che erano tanti proprio in questa stanza alla fine forse la domanda più difficile non hanno avuto il coraggio di farla. La usiamo per chiudere questa chiacchierata. Ti diverti ancora a correre? Io tantissimo. Mi manca da morire l'atletica praticata perché in realtà ci sono dentro dalla mattina alla sera come direttore tecnico del settore giovanile però mi manca la tensione delle gare soprattutto però non ci puoi fare nulla, il tempo passa e la carta d'identità dice la verità. Però mi piace sempre uscire, andare a fare i miei 10, 15 quando posso, quelle 4-5 volte alla settimana e per me oggi è decisamente divertente anche tenermi in forma e poter ad esempio andare fuori con dei ragazzi più giovani che stanno preparando un campionato mondiale juniores per esempio. E che si divertono a tirarti il collo. Che si divertono a tirarmi il collo ma io non mollo, sono un agonista comunque, sempre e comunque. Quindi appuntamento per il 29 agosto dalle 17 qui in Piazza del Popolo a Rubiera con 2004 più 10, l'abbiamo voluta chiamare così proprio per dare un senso di continuità. Non ricordiamo soltanto un 2004 ma anche tutto quello che è successo dopo e augurandoci che tutto quello che succederà da oggi in poi sia altrettanto felice.